sottoporre a critica filosofica la nozione di progetto, cioè la relazione tra fare e pensare, tentando di far emergere la struttura di questa relazione utilizzando la categoria di tempo. Il tempo moderno è decifrabile attraverso la nozione di teologia politica, lo strumento grazie al quale si scopre la struttura metafisica dell'epoca. E si adopera la parola epoca per indicare un tempo sospeso, cioè un tempo che ha in sé la propria legge, un tempo che si pone come tempo autonomo e che ha una propria dinamica temporale interna. Come fa e perché? Che cosa significa che l'età moderna è un'epoca in cui il tempo si pone come tempo autonomo in sé chiuso? Da dove lo possiamo evincere? Che cosa significa? Io personalmente lo evinco dal terzo libro del Leviatano, dove il grande filosofo della ragione politica moderna, Hobbes, spiega che la ragione politica moderna ha senso soltanto se si rienterpreta il tempo sacro, il tempo cristiano e lo si dilata fra due colonne d'Ercole. La prima, quella che allontana per sempre la divinità, ogni traccia di sacro da questo mondo. Questo è in realtà un processo, comincia con Saul e finisce con l'ascensione in cielo di Gesù. Dopo questo atto non c'è più alcun rapporto fra cielo e terra. E l'altra colonna d'Ercole è la promessa cristiana del ritorno di Gesù sulla Terra nel regno millenario che precederà il giudizio universale. Come si vede, in questo modo si apre un bel tratto di tempo, il cui inizio è più o meno noto, il cui termine è completamente ignoto, e in questo tratto di tempo abbiamo un tempo vuoto, un tempo vuoto di sostanze, perché dire sacro e dire sostanze è la stessa cosa, vuoto di fondamento, vuoto di essere, che è, possiamo definirlo come tempo dell'attesa, è un tempo che si determina, allora è al tempo stesso, è contemporaneamente, è un tempo privo di sostanza e determinato dalla sostanza nel modo dell'assenza. Non è un tempo banalmente privo di sacralità, è un tempo privo di sacralità, cosa che è importante, perché questo essere privo di sacralità nasce dal fatto che la sacralità si è ritirata. Questa è teologia politica. Leggere la modernità non come un tratto banale di storia, qualunque, uguale al Medioevo, uguale all'Antichità, no, leggere la modernità non come un pezzo del percorso umano qualitativamente analogo agli altri, e nel caso specifico vuoto, cioè in cui la sostanza è secolarizzata, ma leggere nella secolarizzazione la pretesa dell'abbandono del sacro, pretesa che non si realizza mai. Il sacro è presente anche nella sua assenza, il che vuol dire che la scomparsa del sacro, la scomparsa della sostanza, la scomparsa dell'essere, la scomparsa di Dio, no, tutto ciò non toglie che i modi di funzionamento dell'epoca non siano sostanzialmente analoghi ai modi di funzionamento dell'epoca in cui il tempo era tempo sacro. Cioè anche l'epoca moderna, pur vuota di essere, funziona in modo metafisico. È un tempo in cui può capitare di tutto. Primo, perché tanto è un tempo dequalificato, è il tempo dell'attesa, e secondo, è un tempo in cui noi ci immaginiamo, ecco, che si possa scorgere un movimento progressivo, lineare progressivo. Cioè, vedete, siamo davanti a un'inversione del concetto. Non è vero che il progresso è la misura di tutta la storia umana. Il progresso è un'invenzione moderna ed è il modo attraverso il quale i moderni si immaginano che funzioni la storia. Che cosa significa, inoltre, teologia politica? Ecco, l'epoca moderna è l'epoca in cui la struttura del tempo è una struttura fratta e discontinua, tutta segnata da decisioni. E il tempo stesso, contemporaneamente, l'epoca moderna è l'epoca in cui ci si immagina che il tempo sia, al contrario, un tempo lineare, progressivo. Ciò che si dà, l'agire, è sostanzialmente sempre dequalificato, cioè sempre privo di legami organici qualitativi con l'essere. È un tempo in cui può succedere di tutto, è un tempo in cui si può fare di tutto. Allora, è un tempo che può essere immaginato come un tempo lineare, appunto la parola chiave è immaginato, può essere pensato come un tempo lineare, è un tempo che invece, in altre circostanze, può rivelare la propria insensatezza, cioè il proprio essere un labirinto. Il tutto misurato all'interno di un cronometro che pensa il tempo come lo svolgersi dequalificato all'interno di un'epoca. L'altra caratteristica fondamentale grazie alla quale noi capiamo come funziona la categoria di tempo nella modernità è che questo tempo è un tempo dell'attesa, certo, l'abbiamo detto, cioè è un tempo in cui il sacro non interviene, ma è un tempo straordinariamente indaffarato, è un tempo del fare, cioè non si attende, non si attende nel senso dell'aspettare chissà che cosa, è il Novecento che coglie l'insensatezza di questa temporalità e la trasforma nell'aspettare Godot, cioè nell'aspettare non si sa che cosa. Ma tutta la modernità è, proprio in quanto dequalificato, presenta un tempo che viene riempito di faccende, faccende pubbliche, faccende private, un tempo di affaccendate, che tradotto in linguaggio filosofico significa un tempo dequalificato è quello in cui il rapporto fra il pensare e il fare è un rapporto di mediazione immediata nel segno di una utilità. Allora, il rapporto tra pensare e fare come mediazione immediata nel segno dell'utilità è la tecnica. La tecnica come qualità dominante dell'agire è appaesabile esclusivamente nel tempo sospeso, nel tempo epocale, nell'epoca moderna. Se sei in presenza del sacro, non ti affiglia la tecnica. Se sei nell'assenza del sacro, ti affiglia la tecnica. In questo tempo è il tempo della azione per la potenza, cioè per se stessa, per agire, agire per agire. Se ci pensate, è soltanto in questo tempo che si può avere l'idea che ovunque e sempre si può e si deve costruire, che si chiama il costruttivismo moderno. Cioè l'idea che l'esperienza umana, la vita dell'uomo, la vita associata degli esseri umani, consiste nel costruire, non nell'abitare il già dato, ma nel costruire. Costruirsi la casa, costruirsi un senso. Questo perché siamo esposti a un vuoto, a una kenosis che è il vuoto del sacro. Ma tutto è possibile vuol dire che questo tempo in realtà è pieno di contingenza. Noi ce l'immaginiamo come il tempo della costruibilità, perché non troviamo nessuna sostanza, nessuna qualità che fermi il nostro agire. E va bene, ma questo non trovare gli ostacoli al nostro agire, ostacoli qualitativi, non toglie che noi possiamo trovare infiniti ostacoli quantitativi, accidentali, empirici, e anzi che la nostra epoca è piena di macerie, o comunque è piena di inciampi. Il pensiero dialettico, Hegel, ha tratto la convinzione che la vicenda moderna, senza essere antimoderni, la vicenda moderna sia una vicenda non descrivebile come una linea, cioè un segmento per la precisione, ma sia descrivibile come qualche cosa di sinuoso, complesso, complicato, instabile, come lui lo definisce. L'andamento della ragione non è il progresso, ma è un corteo battico, dove sono tutti ubriachi. Un'altra tesi, la tesi del pensiero negativo, cioè che quello che conta, l'essenza dell'epoca è per l'appunto il suo essere insensata e di una insensatezza radicale non emendabile.